Mio padre mi ha fregato il lavoro e la promozione e ha cancellato i miei ricordi. Ma nessuno mi ha dato una mano, tutto qua! Credevi davvero di poter guidare un golpe contro di me, Zuccherina? Tale quale al tuo papà! Io non sono affatto come te! Ora so cosa vuol dire raschiare il fondo del barile, ma con un fresco tocco di lime. Per quale motivo prendiamo ordini da quegli s*** l'accappatoio? Rilassati, cosa mai potrà cambiare con Rand? Suicidio di massa, chi ci sta? Sto bricendo! Sarà una psichedelica morte del tuo ego! Qui è in gioco il destino del mondo! Vuoi che faccia che cosa in cambio di te? Vuoi aspettare? Devo chiamare la pizzeria! Scusa, conosci qualcuno che fa parte degli Illuminati? Siamo di due compagnie rivali. Potremmo finire in un mare di guardia. Gigi, questa è la mia fonte, Statler. Vuoi due strombazzate? Ho capito! Cosa? Figurati, no, perché mai lo pensi? Scusa, lo pensi qualcun altro perché è assurdo! Perché pensi una cosa leggera? Hai idea di quanti nemici mi sono fatto? Non sopportano che io sia il capo! A tutti fa schifo che tu sia il capo! Ehi, chi vuole far casino come Ed Hardy? C'era una promessa di non morire sul botto di lavoro! Hai rovinato la mia vita fin troppo a lungo! L'umanità ha bisogno di qualcuno che prenda decisioni difficili. Come il film di Christopher Nolan. Non capisco un tubo di quello che succede ma fingo per sembrare intelligente. Ciao! Ciao! Grazie a tutti